Ecco come non pensare oggi, alla luce della parola di Dio, che il Signore abbia affidato questa basilica, questa vigna, questo sogno a me, ai miei stretti collaboratori e fratelli nel Ministero, a tutti coloro che in vari modi, con molteplici compiti, hanno la loro piccola o grande, diretta o indiretta responsabilità. È una vigna certamente piccola, minuta, ma senza dubbio tanto cara e preziosa. Nelle nostre mani ha messo il suo sogno e desidera vederlo realizzato con frutti che allietino e sazino tutti i Suoi figli che qui accorrono da ogni parte del mondo. È un impegno di grande responsabilità quello che il Signore ci affida. E io credo proprio per questo oggi vogliamo desiderare rinnovare tutti insieme il nostro Eccomi. E magari ripetendo le parole con cui Papa Benedetto XVI ha iniziato il suo ministero Petrino. Eccoci qui come semplici, umili lavoratori nella vigna del Signore. Questa Basilica del Santo è un sogno di Dio e per noi che ne facciamo parte è il sogno di Dio. Petrino. Eccoci qui come semplici, un sogno di Dio e per noi che ne facciamo parte di Dio. Petrino. Eccoci qui come semplici, un sogno di Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amén.